Una metodica sulla quale mi voglio soffermare in maniera più dettagliata e poi farvi vedere proprio dei casi relativi all'utilizzo di questa metodica è la stratigrafia. Vediamo che cosa è la stratigrafia, è una tecnologia che si basa sull'ultrasuono in riflessione con una frequenza di 2,5 MHz. La precisione dello strumento è di circa 2 cm di millimetro nella regione della coscia e di 4 decimetri di millimetro nella regione dell'addome. Allora, questo apparecchio ci consente di valutare in termini qualitativi e quantitativi i tessuti sottocutanei, quindi il tessuto adiposo ed il tessuto muscolare. È uno strumento altamente motivazionale, almeno io così uso, che permette, è in grado di fornire non solo delle informazioni importanti al professionista ma anche al paziente che si rende conto dei risultati che effettivamente sta ottenendo. Allora, come si interpreta la stratigrafia? Per poter interpretare le stratigrafie è importante conoscere l'anatomia del distretto corporeo che stiamo analizzando. Come viene eseguita? Si esegue, fa uso di una sonda ad ultrasuoni che viene appoggiata sul distretto corporeo che si vuole analizzare. La sonda viene lasciata scivolare sul distretto che si vuole analizzare. Quello che viene fuori è l'immagine stratigrafica, cioè un'immagine bidimensionale del distretto corporeo che si sta analizzando.